Ripresa degli allenamenti al Guido Biondi, diretti da mister Roberto D'Averza. Il Lanciano ha conosciuto il prossimo avversario di Coppa Italia, si tratta dell'Alessandria, che verrà affrontato domenica 17 agosto qui al Guido Biondi. Insomma, novità in casa Virtus sarà il primo allenamento per Gaetano Monachello, l'attaccante frentano, insieme a Pasquale De Vita, classe 94, che si è aggregato con il gruppo rosso-nero. C'è anche il portiere Nicolás Andrade, classe 88, con Andrade si inaugura un nuovo ciclo per quanto concerne i numeri 1 e a differenza delle passate stagioni, il Lanciano aveva puntato su giovani estremi difensori, nella fattispecie di Alleali e allo stesso Gigi Sepe, rispettivamente 93-91, quest'anno si punda all'esperienza di un classe 88, quale è Andrade. Intanto, prima della sessione di allenamenti, ha parlato l'attaccante senegalese Mame Tiam e nelle sue parole l'entusiasmo di questa nuova avventura rosso-nera. Sentiamolo. Credo che stiamo lavorando bene nei giorni di ritiro, quindi stiamo preparando bene il campionato. Adesso, domenica, abbiamo una partita importante, un test importante di Coppa Italia e cercheremo di sempre dare il meglio. Quanto ci tenete a questa gara? Tanto, tanto perché l'anno scorso siamo usciti subito e quindi quest'anno vogliamo arrivare un po' davanti. Ma in queste prime due partite abbiamo visto atleticamente già pronto e soprattutto non nel 4-3-3, ma anche con due riferimenti offensivi. Tu come ti trovi sia con i tre attaccanti che con le due punte? Io mi trovo meglio più vicino alla porta che magari più laterale, diciamo. Se sono più vicino alla porta magari riesco ad essere più pericoloso. Con i nuovi compagni d'attacco come va l'intesa di questi primi giorni? Stanno andando bene, ci conosciamo tutti, abbiamo giocato l'anno scorso insieme e quest'anno è una forza in più. Ti sei già prefissato un obiettivo? No, però come ho sempre detto io cercherò sempre di dare il massimo per questa maglia e poi vedremo cosa mi riserva la fine del campionato. Abbiamo giocato contro la Serenitana e li abbiamo vissi bene, quindi poi l'Alessandria non l'abbiamo vista, però se ha vinto contro la Serenitana vuol dire che è una buona squadra. Puntiamo anche a far bene la partita di Alessandria per magari giocare con una squadra perché sarebbe una bella esperienza. Come l'anno scorso comunque cercheremo sempre di dare il massimo, poi per quanto riguarda il mercato ci pensa il direttore. Ma a me è il nuovo mister Roberto D'Aversa che l'anno scorso hai visto nella veste di direttore tecnico, quest'anno come lo stai osservando, com'è come allenatore? Io lo sto vedendo molto bene anche perché comunque lui ci tiene tanto e gli allenamenti e tutto quanto si migliora sempre.